benvenuti in questa nuova lezione del corso pratico di teoria e armonia della musica moderna nella lezione di oggi cominceremo a parlare di quella che è l'improvvisazione melodica parleremo delle diverse tecniche improvvisative che si possono utilizzare per creare delle linee melodiche improvvisate e nello specifico affronteremo i concetti di improvvisazione verticale e orizzontale affronteremo diverse tecniche quello dell'uso delle scale e degli arpeggi che in questa prima lezione verranno solo accennate mentre entreremo più nel merito delle linee guida faremo anche alcuni cenni di improvvisazione modale e tonale sempre su scale d'arpeggi questi argomenti verranno ancora sviluppati nelle prossime lezioni sull'argomento improvvisazione melodica quindi entreremo nel merito delle linee guida in questa prima lezione e parleremo di due diversi tipi di linee guida quelle melodiche e quelle armoniche quelle melodiche sono sostanzialmente due la semplificazione della melodia del brano o la costruzione di una nuova melodia al posto di quella del brano che sono due spunti su cui puoi iniziare improvvisare le linee guida armoniche sono di tre diciamo di tre tipi quella sui bassi sulle fondamentali quelle sull'accordo base e quelle sulle sue estensioni quindi entriamo un po' più nel merito della lezione possiamo parlare di due tipi due approcci all'improvvisazione uno orizzontale e uno verticale quell'orizzontale ha una connotazione più melodica il pensiero dell'improvvisatore è nella costruzione di melodie e anche il punto di partenza sul materiale e i tasselli iniziali su cui il musicista lavora sono estratti dagli aspetti melodici del brano l'improvvisazione melodica verticale pur essendo ovviamente sempre un'improvvisazione melodica quindi si tratta sempre di inventare melodie si basa però sulle tasselli di partenza su un canovaccio che è l'armonia del brano per questo che viene chiamata verticale quindi sostanzialmente nell'improvvisazione orizzontale si ragiona di più sulle scale mentre nell'improvvisazione verticale si ragionerà di più sugli arpeggi degli accordi nell'ambito dell'improvvisazione melodica orizzontale abbiamo diverse possibilità possiamo improvvisare sulla tonalità del brano analizzando i centri tonali del pezzo sappiamo che il pezzo potrebbe essere in una tonalità di impianto supponiamo in do maggiore nell'arco del pezzo ci possono essere delle modulazioni e quindi magari ci saranno 8 misure 16 misure che cambiano tonalità per poi tornare di nuovo alla tonalità di impianto l'improvvisazione orizzontale che si basa sull'analisi dei centri tonali è proprio questo definire quali sono le tonalità che vengono utilizzate nel brano che in genere sono una, due, raramente tre e si improvvisa su quelle tre tonalità a seconda ovviamente dello scorso del brano c'è anche un'altra possibilità di utilizzo delle scale orizzontale che è l'uso di scale modali questo è un approccio estremamente complicato, così come complicato è quello sui centri tonali e lo studieremo nelle prossime lezioni, oggi lo accenniamo solamente per il momento vi basta ricordare che l'approccio modale è semplicemente la tecnica di abbinare una scala ad ognuno degli accordi del brano quindi avrete molte scale da conoscere per poter improvvisare questo dà molta varietà all'improvvisazione ma è anche un approccio estremamente complicato per il principiante il terzo ma non ultimo approccio orizzontale all'improvvisazione melodica è quello di costruire delle linee guida che è quello che approfondiremo oggi dei tre la costruzione di linee guida è l'approccio più immediato, più semplice che prevede più l'uso dell'orecchio che non la conoscenza della teoria musicale per quanto riguarda invece l'improvvisazione verticale sostanzialmente si utilizzano arpeggi degli accordi in tutti questi casi stiamo parlando soltanto di un punto di partenza per iniziare a improvvisare che è quasi un canovaccio, come un punto di vista ma poi sono assolutamente ben accette, benvenute note di passaggio, cromatismi e tutti questi vari approcci all'improvvisazione possono essere mischiati comunque, iniziamo partendo dalle linee guida che è il fulcro della lezione di oggi prima di parlare di linee guida facciamo un breve scursus su quelle che sono le altre possibilità scale e arpeggi perché ci serve per capire la differenza tra l'uso della linea guida e invece le altre tecniche possibili quindi non entriamo nel merito di come usare queste tecniche ma cerchiamo di capire almeno in cosa consistono ecco il primo esempio questo è un esempio di utilizzo dell'improvvisazione melodica su centro tonale orizzontale su centro tonale come vedete qui ci sono otto misure questo è, sono otto misure del tema del brano I could write a book che troverete in piattaforma e che studieremo in questa lezione per intero ho ricopiato, diciamo, il giro armonico di queste otto misure e come vedete ho deciso di utilizzare la scala di do maggiore per tutto il tempo perché ho scoperto, analizzando che tutti questi accordi fanno parte della tonalità di do maggiore salvo questo do diese diminuito che è di passaggio che fondamentalmente non considero insomma, le prime otto misure del brano sono in do maggiore io improvviserò nuove melodie in do maggiore quindi l'approccio tonale è proprio l'improvvisare sulla tonalità del brano o della frase modulante esempio 2 questo è il materiale per improvvisare su arpeggi degli accordi quindi è un'improvvisazione verticale in questo caso il brano è sempre lo stesso ma il materiale da cui parto sono gli arpeggi degli accordi prima, terza, quinta e settima ovviamente questi arpeggi possono salire o scendere do mi sol si do la sol mi a scendere per non fare troppi movimenti scendo partendo dalla terza di la minore terza, prima, settima minore e quinta e via dicendo quindi l'approccio ad arpeggi vuol dire che la linea guida da cui partiamo per poi creare improvvisazioni quindi aggiungendo note di passaggio variazioni, ritmi ma diciamo il terreno su cui ci muoviamo il nostro pensiero va a questi arpeggi degli accordi dalla prima alla settima questo terzo esempio invece è un esempio di improvvisazione che utilizza le scale modali senza entrare nel merito del perché del per come di ogni scala perché lo vedremo nelle prossime lezioni con molta calma possiamo però invece notare che questa volta ognuno delle sigle ha una sua scala di riferimento la prima è do maggiore la potete riconoscere l'accordo è do major 7 la minore settima è una scala che parte da la ed è la scala di la minore naturale la minore settima è una scala che parte da re che si chiama dorica sol settima è una scala che si chiama misolidia che parte da sol e via dicendo fino ad arrivare al do diesis diminuito che è una scala diminuita a tono e semitono insomma non vi sto a spiegare adesso perché uso queste scale su questi accordi quello che invece per me è importante che voi notiate che non sto più improvvisando sempre in do maggiore ma questa volta utilizzo una scala diversa su ciascun accordo quindi l'approccio modale prevede che ogni accordo abbia una sua scala di riferimento quindi abbiamo parlato di accenni di improvvisazione su arpeggi e scale usando queste diverse modalità centro tonale approccio modale approccio ad arpeggi tutte queste tecniche prevedono una buona conoscenza delle sigle e la capacità di fare l'analisi armonica del brano per questo prevedono un certo studio teorico e una certa applicazione pratica anche allo strumento che vedremo con calma nelle prossime lezioni mentre oggi ci concentriamo su un altro aspetto dell'improvvisazione melodica che è la costruzione di linee guida melodiche e armoniche e siamo nell'ambito dell'improvvisazione orizzontale perché? perché questa tecnica di costruire linee guida è molto utilizzata dai cantanti e prevede una buona capacità di memorizzazione melodica una velocità di inventare melodie a orecchio ma non prevede o non è necessario avere grandissime competenze teoriche di base che c'è un po' la tendenza soprattutto noi adulti perché poi i bambini non è così ma di partire dalla teoria e poi applicarla allo strumento questo fa sì che improvvisare diventi un puzzle infinito di miliardi di pezzi dove non si riescono a capire gli incastri a colpo d'occhio trovo invece molto più come dire sano musicalmente partire da un approccio improvvisativo che preveda meno ragionamento e più intuito musicale anche perché una volta ragionato e capito come fare ad improvvisare nel primo anno insomma anche meno del primo anno quando l'improvvisatore improvvisa non ragiona su ogni nota perché non avrebbe il tempo non è un ragionamento così esplicito si passa da ragionamenti in fase di studio ma poi l'improvvisazione è comunque basata su un intuito musicale estremamente forte estremamente raffinato anche grazie al lavoro teorico svolto precedentemente il principiante che non ha questo automatismo tende a pensare tantissimo e si dimentica di ascoltare il suono di quello che produce quindi io preferisco partire dalle linee guida che prevedono meno ragionamento ma invece molta capacità di prevedere dove stanno andando le frasi musicali e anche di memorizzare velocemente cellule idee piccole melodie e riuscire a variarle ecco perché io parto dalle linee guida costruire costruire una melodia semplificata e di facilissima memorizzazione al posto della melodia originale del pezzo e questo materiale poi diventa guida per l'improvvisazione perché abbiamo bisogno di sostituire la melodia del brano ci si potrebbe chiedere possiamo partire dalla melodia del brano e variare quella in realtà ora vi faccio vedere un piccolo esempio questo è questo è un esempio di linea guida melodica vedete che è estremamente meno complessa ci sono meno note è uno scheletro di I could write a book questa semplificazione ci permette anche però di allontanare un po' la nostra immaginazione dalla melodia originale e la linea guida mantiene comunque una funzione melodica di guida dell'improvvisazione come farebbe la melodia originale è fondata più o meno sullo stesso giro armonico quindi non ci porterà fuori tema ma ci eviterà di fare delle improvvisazioni che in realtà sono parafrasi della melodia originale questa è un'altra caratteristica dell'improvvisatore principiante ci sono quelli che pensano tantissimo e suonano scale avanti e indietro perché le hanno studiate prima e ci sono invece quelli che suonano esclusivamente ad orecchio ma alla fine non riescono a staccarsi dalla melodia del brano e quindi le loro improvvisazioni sono molto belle ma sono tanto tanto simili al brano originale quindi proviamo a costruire alcuni tipi di linee guida lo dovrete poi fare allo strumento o in piattaforma avrete degli esercizi pratici guidati e le basi su cui lavorare per applicare le linee guida e poi improvvisare sulle vostre linee guida allora abbiamo detto che ci sono linee guida melodiche e ce ne sono di due tipi la semplificazione della melodia originale quindi scremare la melodia originale e tenere solo i punti diciamo importanti quindi le note saranno semi-minime minime difficilmente avremo delle crome perché semplifichiamo tutto quello che è ridondante l'altra tecnica invece è proprio la costruzione di una nuova melodia che sia molto semplice in genere quello che si fa è tenere la suddivisione metrica della melodia originale e cambiare le note poi ci sono le linee guida armoniche ce ne sono di tre tipi la prima è basata sulle note base degli accordi quindi è una linea fatta di note che sono da quattro quarti ciascuno quindi immaginate proprio dei padelloni nell'arco del brano che in genere sono le note base dell'accordo e ogni tanto qualche estensione che vengono collegate tra di loro in maniera da non fare troppi salti ne vedremo tra poco degli esempi in maniera che la linea che risulta da queste note da quattro quarti poi letta in orizzontale come risultato sia una linea che non ha dei salti continui l'altro tipo di linea guida armonica è semplicemente la linea del basso questo è il modo di pensare del bassista il bassista molto spesso improvvisa sui temi ma in realtà è talmente abituato a suonare la linea di basso delle fondamentali che la sua improvvisazione è un'improvvisazione che collega le fondamentali tra loro con molte variazioni possiamo usare questo approccio quindi la nostra idea è prendiamo le note fondamentali le buttiamo alla mano destra come fossero una melodia e da lì iniziamo a improvvisare la terza possibilità è basata invece sulle estensioni interessanti anche alterate degli accordi quindi avremo una linea che ha sempre dei padelloni sono note degli accordi ma sono note che normalmente sono note undicesime tredicesime e anche alterate quindi questa linea si stacca molto dalla consonanza diciamo del giro armonico originale ovviamente questa linea supporta delle improvvisazioni più sofisticate più lontane dal tema ma prevede anche che il musicista abbia un orecchio raffinato perché non diventino poi troppo astratte ne vedremo comunque adesso breve degli esempi di ciascuna di queste possibilità allora partiamo da qualche esempio pratico e affrontiamo delle linee guida melodiche e l'esempio è sempre I could write a book che poi dovrete anche studiare avrete tutti gli esempi ecco un primo esempio questa è una linea melodica semplificata come vedete il brano a qui e qui sono le prime battute originali ha delle note molto simili non c'è le le vare però partiamo quindi da qui le note sono molto simili sono un po' più semplici guardate la seconda battuta qui c'è la re mi invece di la sol mi re mi e via dicendo è molto simile all'originale solo più semplice in maniera che ci sia spazio per variazioni in maniera che ci sia un po' più semplice in maniera che ci sia in questo secondo esempio invece c'è una linea guida melodica che è una nuova melodia costruita mantenendo la suddivisione metrico-ritmica della melodia originale però cambia completamente questo suggerisce se voi memorizzate questa melodia anziché la precedente la scrivete poi la memorizzate poi improvvisate su questa vedrete che il tipo di improvvisazione che uscirà sarà diversa dalla precedente la precedente la semplificazione della melodia vi porterà a fare delle variazioni e delle improvvisazioni che sono molto più simili al tema originale rispetto che in questo secondo caso grazie a tutti Avete poi a disposizione in piattaforma un file intero di una linea guida melodica oltre al brano originale e quindi potete iniziare a studiare quella che propongo io anche a tenerla come modello per scriverne delle altre. Vi consiglio di esercitarvi a scriverne molte perché è il primo step per imparare a fare questo processo in maniera estemporanea, cioè i gettisti non si scrivono la linea guida prima e se la memorizzano. Creano la linea guida nel momento stesso in cui stanno anche creando l'improvvisazione. È come se creassero la linea guida e poi delle sottocomponenti che sono le variazioni stesse ma il tutto avviene in parallelo. Esempi di linee guida armoniche, sempre i could write a book. Allora in questo terzo esempio sto usando le fondamentali dei bassi. Quindi ho preso i bassi, do, l'are, il soldo e le ho messe al tema, alla melodia. Quindi mi dimentico il tema originale, studio i bassi come se fossero una melodia e dopodiché ci improvviso. Questo quarto esempio, invece, è una linea guida basata sulle note base dell'accordo. Come vedete, la linea non prevede dei grossi salti, sono tutte note vicine. Per poterla costruire, sono partita da una nota qualsiasi dell'accordo di do, ho scelto tra do, mi, sol e si, e io ho scelto sol. E poi ho cercato una nota di la minore settima che sia o la stessa o poco distante. Potevo andare a la, per esempio, invece ho deciso di rimanere su sol, cioè ho usato la settima. Su re minore ho scelto la terza in maniera da avere un movimento sol, sol, fa. Ho ottenuto fa anche per il sol settima, la settima dell'accordo. Sol, sol, fa, fa, mi, in do, ho deciso di usare la terza per chiudere la mia linea discendente per gradi adiacenti. Quindi cerchiamo di scegliere le note dell'accordo tra le note base, prima, terza, quinta e settima, ma senza fare dei salti tra una nota e l'altra. Va benissimo anche quando le note ripetono. Più è facile da memorizzare la linea, più funzionale sarà ai fini dell'improvvisazione. In questo esempio ho creato una linea guida, ma questa volta ho scelto come approccio il fatto di usare estensioni dell'accordo, quindi vedete che per esempio in do major seven sono partita dalla nona, re, la minore settima sono partita dal si, di nuovo la nona, re minore settima sono andata a sol, l'undicesima, sol settima, mi, tredicesima, do major seven, re, nona. Ho fatto una linea anche che ha un po' più di salti rispetto alla precedente. Questo perché mi volevo allontanare molto dal senso armonico do, la, re, sol, giro di do. Ho cercato una linea che potesse allontanarmi moltissimo da quel sound, sempre per supportare un'improvvisazione che abbia una sonorità un po' più moderna, un po' meno scontata a livello armonico melodico. Anche in questo caso avete poi disponibile in piattaforma una linea completa armonica basata sulle note basi dell'accordo, quindi potete partire da quella per iniziare a impratichirvi usando le basi e poi vi consiglierei di scriverne delle nuove e anche di mandarmele tramite mail così io posso controllare quello che state facendo. Grazie a tutti.